Ben ritrovati al consueto aggiornamento con l'informazione del Tg di Tibusiti in apertura all'emergenza sanitaria, dati altalenanti sui contagi nei comuni del Vesuviano tra nuovi casi e nuove guarigioni. È tempo di pensare ai problemi economici e sociali, la situazione in campagna è rassicurante, sono le parole del governatore Vincenzo De Luca, non manca ancora l'ennesimo appello a vaccinarsi. Ora spazio alla solidarietà, torna l'appuntamento con il Banco Alimentare promosso dalla Chiesa del Carmine a Torre del Greco, quest'anno verranno donati anche indumenti a seguito dell'iniziativa della protezione civile in collaborazione con la nostra emittente. Ancora solidarietà ai nostri microfoni, abbiamo raccolto l'appello di Carlo Esposito, responsabile dell'Associazione Sviluppo Area Porto per sostenere ed aiutare una famiglia in difficoltà. In chiusura lo sport con la Turris, terza vittoria consecutiva per i corallini che salgono al secondo posto in classifica e si preparano ad affrontare la capolista, questo ed altro. Guardiamo i servizi. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino risalente a venerdì sera, sono 5 i nuovi casi di positività certificati. Sono invece 4 le guarigioni registrate. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati con 86 attualmente positivi, di cui 11 ospedalizzati. Nel comune di Torre annunziata invece nelle ultime 72 ore si sono registrati due nuovi casi di contagio a fronte di 219 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta allo 0,91%. A contempo si registrano 10 guarigioni. Sono 31 dunque i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 49.852. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.614, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.238. La nostra attenzione, fortunatamente, nelle prossime settimane si sposterà dall'emergenza Covid alle questioni economico-sociali e ai temi dello sviluppo e del lavoro. Sono le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto aggiornamento del venerdì. Io credo che sempre meno dovremo parlare di Covid nelle prossime settimane e dovremo spostare anche la nostra attenzione sempre di più sulle questioni economico-sociali e sui temi dello sviluppo e del lavoro. Il mese di ottobre sarà decisivo, prosegue, per avere un quadro rassicurante più stabile. Per un pieno ritorno alla normalità dobbiamo fare comunque uno sforzo ulteriore sulle vaccinazioni. Ancora in questa settimana registriamo dati tranquillizzanti per quanto riguarda il Covid nel nostro paese. Dovremo aspettare il mese di ottobre, sia perché avremo le scuole aperte già da un mese e mezzo, sia perché dobbiamo vedere quello che succede dopo il 15 ottobre, le scadenze del Green Pass. Per quello che ci riguarda in Campania abbiamo una situazione abbastanza tranquilla. Non mi piace il dato che registriamo per le seconde dosi. In Campania abbiamo fatto 7 milioni e 750 mila somministrazioni di vaccino su una popolazione di circa 6 milioni degli abitanti, ma le seconde dosi in cittadini immunizzati sono solo 3 milioni e 600 mila e non va bene. Il nostro impegno intanto è massimo su tutti i fronti. Abbiamo fatto di tutto per garantire una ripartenza in tranquillità della scuola, ribadisce De Luca. Adesso dobbiamo partire con la terza dose per le vaccinazioni anti-Covid. In Campania faremo contemporaneamente la terza dose alle persone fragili, agli anziani e al personale sanitario. Io continuo ad invitare i nostri concittadini a fare uno sforzo in più. La Regione Campania è la prima Regione d'Italia per il numero di mezzi pubblici messi a disposizione in occasione dell'apertura dell'anno scolastico. 950 mezzi in più. A fronte dei 644 della Lombardia e dei 202 della Regione Lazio. Abbiamo fatto di tutto per garantire che le scuole si aprissero in condizioni di tranquillità. Personale scolastico vaccinato al 100%. Adesso dobbiamo partire con la terza dose, sulla base ovviamente delle scadenze temporali. In Campania faremo contemporaneamente la terza dose alle persone fragili, gli immunodepressi, ma anche al personale sanitario tutto. Non seguiremo una scala temporale. Si farà contemporaneamente tutto. A Torre del Greco torna l'iniziativa del Banco Alimentare, organizzata come di consueto dalla Chiesa di Santa Maria del Carmine per la distribuzione di generi alimentari. Quest'anno verranno donati anche indumenti per tutte le famiglie del quartiere più bisognose, grazie all'intervento della protezione civile in collaborazione con TV City. L'appuntamento, che si terrà domani mattina a Piazza Palomba, assume un valore ancora più significativo dopo un periodo di forte crisi economica causata dalla pandemia. Abbiamo intervistato il parroco Don Mario Pasqua, sempre attivo nelle attività di supporto per i più fragili. Non è la prima volta, ma l'occasione, grazie anche alla protezione civile, che insieme a Ciro, facendo questa proposta di donare questi abiti per le famiglie più bisognose. Domani proprio ci sarà martedì, ci sarà il Banco Alimentare, come facciamo sempre. Era da parecchio che dopo la pausa estiva che abbiamo fatto, adesso riprendiamo di nuovo di aiutare le famiglie. Ma non che durante l'estate non abbiamo aiutato le famiglie, perché poi c'è una bella iniziativa e questo lo devo dire, anche se questo va sui social, tutti i bambini della prima comunione che hanno fatto quest'anno venivano presentati alla comunità, più che altro per pregare per loro. Domenica 3 ottobre abbiamo concluso questi numeri che abbiamo fatto dall'inizio di aprile fino al 3 ottobre, domenica 3 ottobre abbiamo concluso e dove i bambini venivano presentati alla comunità e dove loro offrivano questo cesto. E questo cesto che loro davano, noi abbiamo aiutato anche nel periodo estivo, quando non abbiamo avuto il Banco Alimentare, abbiamo donato a quelle famiglie bisognose. Noi cerchiamo di fare tutto il nostro meglio. Domani, martedì, quando daremo il Banco Alimentare, noi chiederemo alle famiglie se ci è bisogno. Noi mettiamo sempre il nostro meglio. cerchiamo sempre di fare il bene per gli altri. Forse non sarà perfetto, ma la perfezione è solo di Dio. Carlo Esposito, presidente dell'Associazione Sviluppo Area Porto, oggi qui ai microfoni di TV City per fare un appello, un appello per una famiglia che purtroppo è rimasta senza casa. Vivevano a Corso Garibaldi, cosa è successo? Venerdì scorso è stata sgomberata una famiglia da un edificio probabilmente pericolante e per motivi di sicurezza è stata sgomberata. Il problema è che questa famiglia non è una famiglia benestante e quindi vivevano lì anche in una situazione abbastanza precaria e quindi praticamente è stata attualmente divisa. Quindi i genitori sono da una parte e i figli, insomma, ospiti di altre persone. Però l'aggravante è che il papà che ha scontato il suo debito con la giustizia in carcere adesso era agli arresti domiciliari per gli ultimi mesi e quindi praticamente risiediva presso questa abitazione. Il problema che si crea è che chiaramente non avendo più un domicilio dovrà rientrare in carcere perché non ha più una sede stabile. Si sfascia di fatto una famiglia perché già precaria di per sé con questa situazione diventa ancora più problematica. Quindi lei vuole fare un appello all'istituzione per individuare dei locali che possano ospitare questa famiglia? Esatto, l'appello è all'istituzione e a chi ha magari qualche appartamentino modesto ovviamente dove praticamente far alloggiare queste persone che pagheranno ovviamente regolarmente l'affitto perché comunque noi ci siamo mobilitati per dare una mano concreta e quindi dare la possibilità di riunire la famiglia e continuare a vivere la loro vita insomma anche se precaria ma insieme. Perché in fondo è giusto mettere in pratica anche quello che diceva Papa Francesco ieri. Sì, infatti il Papa diceva nel suo Angelis una frase che mi ha particolarmente colpito che dice chi cerca Dio lo trova lì, nei piccoli, nei bisognosi, non solo di beni ma di cure e di conforto come i malati, gli umiliati prigionieri e gli immigrati carcerati. Lì c'è lui. Quindi sostanzialmente se siamo credenti, io non lo sono, bisogna aiutare chi ha bisogno, anche i carcerati. Dopo due sconfitte interne, sfatato il tabù casalingo, i Corallini vincono 3-1 a Liguri con una prestazione maiuscola. Inizio gara di marca Corallina, quinto minuto punizione di solo a tre quarti, dinunzio sul secondo palo fatatore per Sant'Agnillo che manda di poco alto. A quindicesimo Ghislandi a destra va il prossimo smarciato dal portiere Cardinali con la difesa che rinvia corto con Franco che ha postato al limite e tira a rete costringendo il portiere ospite al doppio intervento. Ad Udi si inizia a fiutare il colpo del KO. Franco dai 30 metri scaglia un tiro che colpisce l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere ospite e subito dopo i Corallini passano in vantaggio con una manovra fluida e ben orchestrata. Ghislandi crossa per Giannone che con una zampata mette la palla nel sacco ed è 1-0. I Corallini continuano a premere sull'acceleratore con Leonetti in grande spolvero, si guadagna una punizione dal limite battuta magistralmente dall'inesauribile Tascone che mette la palla sopra la barriera per il 2-0. Nel finale di primo tempo al 44esimo la più bella trama di gioco che per via centrali passa per i giocatori con più qualità, Franco, Leonetti e Santaniello e Giannone che con un colpo sotto colpisce il palo. Nella ripresa la Turi si rischia in due occasioni con il centravanti Carletti che si divora il gol del 2-1 che arriva al 54esimo grazie alla punizione del difensore Nicolao che batte l'incolpevole Perina. I Corallini riprendono il palino del gioco e al 60esimo Leonetti segna dal limite dell'area con un tiro preciso che si insacca alla destra del portiere, 3-1. All'87esimo rigore dubbio per il Latina, tira Rossetti che si lascia ipnotizzare dal portiere Corallino Perina abile a tuffarsi alla sua destra. Il match si chiude con qualche sortita offensiva degli ospiti ma il risultato rimane sul 3-1 e la Turi si porta al secondo posto con 13 punti alle spalle del Bari capolista e domenica i Corallini saranno di scena proprio al San Nicola per un inaspettato scontro al vertice. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'e-mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamando al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani.